Un lavoro ciclopico, dice l'assessore al bilancio Bruna San Massimo. Un comune in codice rosso annuncia il sindaco Alessandrini che in pieno stato di emergenza economica trova il tempo di recitare alla stampa la favola della formica e della cicala di Esopo, rivolgendola ai suoi predecessori. I comuni, a cominciare da quello di Pescara, dovranno essere più efficienti, dovranno essere capaci di sostenersi autonomamente e dovranno rivedere politiche un po' allegre, un po' da cicala. Ho citato Esopo nella mia conferenza stampa prima, noi siamo un'amministrazione formica rispetto alle cicale che ci hanno preceduto e significa aggredire ogni centimetro del campo per fare efficienza. La situazione è drammatica e ci saranno ancora taglie e riduzioni fin quando sarà possibile, pur di non vedere arrivare, un commissario esterno. Perché questa sarebbe una iattura per la comunità pescarese, atteso che i tagli dovrebbero essere comunque fatti senza la possibilità dell'intervento politico, tesi a rimodularli appena possibile e perché poi i fornitori del comune di Pescara verrebbero soddisfatti solo in parte qua, cioè solo in una proporzione rispetto all'intero. Vengono snocciolati dati, cifre, suddivise per pertinenze per rendere noto quale sia il ruolo di ogni comparto per la sopravvivenza della città. A malincuore si taglia ancora sul sociale, altri 300.000 euro escono dalla previsione di bilancio. Il debito accertato è di 7.942.651 euro. Il comune chiede di rimodulare in 28 anni anziché 10 e cerca anche altre strade per rimpolpare le casse, come la voce evasione fiscale e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Con Cassa Depositi e Prestiti abbiamo, nella interlocuzione che abbiamo avuto ieri, avviato un primo percorso tesa alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il bilancio dovrà essere approvato entro e non oltre il 27 maggio. Queste le scadenze da rispettare secondo la Prasi per rimodulare i debiti. Per poter accedere a quella rinegoziazione dei mutui, il Consiglio Comunale dovrà approvare il bilancio entro il 27 maggio. Da ciò, naturalmente, un invito alla responsabilità di tutte le forze politiche, perché in difetto di questo ciò di cui parliamo diventerebbe inutile.